buongiorno da me dal martello pneumatico e dalle 8 e 10 che continuano sono le 10 capite che sono leggermente esaurita comunque questo sarà un video che sto girando e butto direttamente online adesso prima di andare al lavoro se trovo la palettina per mettermi il blush e un po di terra e volevo comunicarvi che domenica e lunedì sarò a bologna per il sana visto che spesso mi chiedete a facci sapere quando vieni quando vai e quindi domenica e lunedì mi troverete a bologna martedì invece sarò in quel di milano che vado alla presentazione dei nuovi della nuova collezione posh degli smalti fabi e ieri sera ho messo una fotografia su instagram in tante volte mi avete chiesto di fare appunto un ask chicca quindi questo video è per dirvi fatemi tutte le domande che volete le scrivete qua sotto io raccoglierò le le domande di questo video e del della fotografia che al momento state mettendo tanti mi piace ma di domande ce ne sono tipo cinque e quindi io mi chiedo ma perché mi chiedete di fare l'ask chicca se poi sotto non scrivete le domande allora ho detto stamattina giro un video al volo lo carico direttamente su youtube vediamo se qua mi fanno più tante domande perché se no è inutile che io giri madonna sto martello pneumatico è proprio sotto casa mia come sempre c'è ogni volta si mettono sempre sotto la finestra della mia camera vabbè e niente quindi fammi la tua domanda io confido in voi perché voi siete fantastici fantastici perché ci sono anche dei maschietti so che mi farete delle domande stupende non sempre le solite domande che si fanno fatemi le domande più bizzarre perché a me quelle mi fanno impazzire io poi non sono un assolutamente che non risponde anzi figuratevi ovviamente ne sceglierò un tot se sono tante perché se non viene fuori un video di 12 ore e avrete più o meno una settimana di tempo perché io poi ritornerò a torino mercoledì e per mercoledì in teoria dovrei già avere il video da caricare e quindi il video dopo sarà quello che penso che se ce la faccio sarà il video del venerdì e quindi forza fatemi le vostre domande fatemi sognare cavolo cioè ne ho proprio bisogno in questo momento che domani riparte irma e mi sta salendo la tristezza un'altra volta cerco di non pensare che adesso veramente non so più quando la rivedrò perché lei adesso torna la il mio viaggio a tenerife oramai è già stato fatto lei qua c'è già venuta e quindi boh fa niente è stato bello finché è durato quindi forza fatemi ve lo ridico fatemi le vostre domande o qui o su instagram dove volete sotto nell'info box trovate tutti i link per seguirmi anche sugli altri social basta che cliccate appunto l'info box e trovate tutto adesso vado a a mettermi le scarpe e a volare verso il tram perché è tardi vi auguro una buona giornata e un bacione ciao a se apri la finestra mio bacino ti arriva insieme al martello pneumatico ciao